Torna l'aiuto del Comune per le famiglie in difficoltà che faticano a sostenere i costi degli affitti sul libero mercato a causa degli effetti della pandemia. Dalla prossima settimana sarà infatti possibile presentare la richiesta per un sostegno fino a 3.000 euro a patto che la quota di canone coperta non superi le 8 mensilità. Il contributo sarà versato direttamente al proprietario dell'alloggio e servirà a coprire il costo degli affitti non versati o di quelli da versare. La domanda andrà presentata attraverso la piattaforma online Misura Unica Covid sul sito del Comune di Milano. Per ottenere il contributo è necessario attestare un ISEE non superiore ai 26.000 euro, non essere proprietari di un alloggio nel territorio lombardo ed essere residenti nell'alloggio in questione da almeno sei mesi. Una misura che, secondo l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran, aiuterà tante famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in condizioni di difficoltà, ma anche i proprietari delle case che non ricevono il canone dovuto. Ma davanti all'emergenza abitativa in città l'assessore di Palazzo Marino non manca di toccare il tema delle case popolari, nello specifico la gestione che ne fa Aler, che negli ultimi anni ha venduto con cadenza mensile centinaia di appartamenti. L'ultima asta, denuncia Maran, risale ad appena pochi giorni fa e altre decine di unità immobiliari sono uscite dal patrimonio residenziale pubblico di Milano. Solamente negli ultimi 12 mesi, sostiene l'assessore, in questo modo sono state cedute quasi 300 case e, negli ultimi due decenni, Maran calcola una perdita totale del 30% degli immobili. Vendere per ripianare, affonda l'assessore comunale, sembra essere l'unica strategia messa in atto da Aler. L'ultima asta della società regionale risale in effetti al 14 aprile scorso e ad essere vendute sono state 58 unità immobiliari tra Milano, centro compreso, e la sua provincia, da Binasco a Corsico, da Sesto San Giovanni a Cinisello Balsamo. Totale dell'incasso della regione 8 milioni e 400 mila euro, 3 milioni esatti in più rispetto alla base d'asta che Aler aveva fissato per gli alloggi.